Ciao a tutti e bentornati a 10 minuti per cucinare. Oggi prepareremo insieme le neole morbide. Utilizzeremo la macchinetta per le neole. Per prepararle abbiamo bisogno di 5 uova, 500 g di farina, 250 g di zucchero, 250 g di burro sciolto e una bustina di lievito. Andiamo a iniziare a preparare l'impasto unendo le uova insieme allo zucchero. Trattiggiamo il limone, mettiamo il lievito, frulliamo, aggiungiamo il nostro burro sciolto, frulliamo ancora un frulliamo. Per ultimo aggiungiamo la farina, una prima metà e aggiungiamo anche l'altra metà. Se utilizziamo delle uova di campagna, quindi abbastanza grande come nel mio caso, l'impasto potrebbe venire abbastanza duro, quindi potremmo aggiungere del latte. Io ne ho aggiunto circa un bicchiere. Frulliamo. L'impasto è pronto, andiamo ad accendere la nostra macchinetta e aspettare che arrivi la temperatura e andremo ad inserire il nostro impasto all'interno delle formine. Ok, io utilizzerò un mezzolo per darmi una regolata, un quantitativo. Andiamo a versare. Schiacciamo. Io con questa macchinetta metto una temperatura media e li faccio cuocere per circa un minuto. Una volta fredde diventeranno leggermente più dure ma comunque buonissime spalmate con la nutella o la marmellata o anche mangiate così. Miele! Tutto quello che possiamo spalmare sarà benissimo su questo dolce sfizioso. Le nostre neole sono pronte, spero che vi piacciono e alla prossima videoricetta!